L'anno chiamata Edizione su Dante, e non soltanto per l'AFA già presente e per quella in arrivo. Il fatto è che quest'anno ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, da qui la volontà degli organizzatori di Birra d'Augusto di unirsi alle celebrazioni in onore del Sommo Poeta. Per il resto, seppur allargata, la formula sarà quella d'eccezione già sperimentata lo scorso anno, rivisitata a causa Covid ma comunque di successo. Grazie all'Associazione Culturale Fortuna Dea, in collaborazione con Confesercenti, Comune di Fano, Proloco e il tour operator Tuqui Tour, giovedì 12 e venerdì 13 agosto si potranno dunque di nuovo apprezzare le migliori birre artigianali nei 10 locali aderenti del centro storico fanese. Un'occasione in più per divertirsi e per vivere a pieno la città della fortuna. L'evento purtroppo anche per quest'anno, a causa Covid, non abbiamo potuto realizzarlo sulla formula principale, ma ci siamo basati su quella che è stata l'impronta fronte all'anno scorso, ovvero ci siamo collegati con gli esercenti del nostro centro storico. Quest'anno l'abbiamo allargato non solo alla piazza ma a tutto quello che riguarda il centro storico di Fano, quindi a più esercenti hanno risposto tutti positivamente alla domanda e quindi abbiamo allegato ogni birrificio, ci sono nove birrifici qui della nostra entroterra, tutti i birrifici artigianali e i vari esercenti che hanno preso parte all'evento. Quindi la formula è birra, artigianale, food nei vari esercizi che ci hanno dato la disponibilità, musica live dal vivo e anche DJ set, tutto dall'aperitivo fino al dopo cena. Partecipazione libera e mi raccomando per quello che riguarda la prenotazione che è consigliata perché comunque si seguivano tutte le normative anti-Covid di ruolo e tutto quello che ne consegue. Questo evento che ormai è arrivato alla sua undicesima edizione, abbiamo deciso di collaborare come confesi esercenti in maniera attiva perché quest'anno si svolge appunto in tutto il centro storico. abbiamo deciso di dare il nostro supporto per riuscire a creare movimento in centro, dare una mano alle attività che vengono da questo periodo di difficoltà dovuto al Covid e finalmente adesso si rinizia pur mantenendo le norme di massima sicurezza, pur facendo attenzione a tutto quello che sono le leggi anche con il Green Pass, quindi stando all'aperto, però cercare di creare un evento divertente, sicuro e che porti gente in centro storico, il centro commerciale naturale della città di Fano, cercare di rivalorizzarlo, ridargli la giusta importanza e cercare di dare una spinta di ripresa alle attività. Se è vero che oggi il 50% dei motivi perché un turista va a fare le ferie sono legati all'enogastronomia, il resto 50% storia, cultura, paesaggio, arte, però quello che conta molto oggi è l'enogastronomia. Quale migliore occasione, visto che la festa della birra è nata da poco, ha bisogno di crescere, deve crescere, legare il nostro mestiere a questa piccola festa con la speranza di farla crescere. Ormai si conosce quella che è la creatività, la voglia di fare della città di Fano, quindi un'altra associazione, questa volta Fortuna Dea, nata per valorizzare la nostra allogastronomia, quindi le nostre birre tradizionali, che ha rivisto il suo modo di fare l'evento, quindi collaborerà con tutta una serie di attività del centro storico e non solo, per far sì che innanzitutto si possa fare ancora di nuovo lavorare le attività economiche in questo periodo così difficile, si possa mantenere vivo ma sicuro il nostro centro storico e dallo stesso modo si possa valorizzare questo prodotto così importante che ha visto nascere tanti birrifici nel nostro entroterra ma anche nella nostra città e che è un prodotto tutto da valorizzare.